Mister Pazzini, un altro anno qui a San Termete, gli ultimi due purtroppo sono stati caratterizzati dall'emergenza Covid, quindi c'è una grande voglia di ripartire. Sì, sì, la voglia di ripartire è tanta, penso a tutti i livelli, non soltanto nel calcio, perché insomma lo sport è uno di quelli sfoghi che mancano un po' a tutti, via. Sì, due anni fermi, uno quasi retrocessi, l'altro quasi promossi, quindi diciamo che siamo in pari con la sorte. Quest'anno da dove riparte il San Termete e qual è l'obiettivo per questa stagione? Sicuramente ripartirà dai ragazzi, dal gruppo dell'anno scorso che stava facendo bene, quindi da quel filotto di cinque vittorie fra campionato e Coppa, chiaramente con gli stessi propositi che sono quelli di fare un campionato di vertice e poi vediamo cosa ci regala la fortuna. Il DS Cipriani ci ascolta, quali sono state le tue richieste di mercato, quali sono gli obiettivi? Io in linea di massima richiesta, lui lo può confermare, non ne ho mai avanzate, nel senso che mi piace lavorare con i ragazzi che mi ritrovo al campo. È chiaro che ci confrontiamo sull'eventualità o meno di difensori, centrocampisti attaccanti o portieri sulle caratteristiche che hanno. C'è un confronto continuo, però penso che la squadra sia già ottimamente allestita per benfigurare nel campionato di promozione. Torna Mesgur, quindi un'iniezione di esperienza, c'è la conferma di Vukai, un giocatore importante, quindi Santermetri parte comunque da giocatori di grande livello per la categoria. Sì, sono giocatori di grande livello, Mesgur per quanto mi riguarda non sarei mai andato perché me lo ritrovo al campo, abbiamo chiuso gli allenamenti, me lo ritrovo nuovamente con noi. Mi fa un immenso piacere perché è un ragazzo che dà una ventata di esperienza ai più giovani e anche al sottoscritto, ricordiamo che io vengo da categorie più basse e lui invece ha giocato a livelli importanti. E mi fa piacere che rimanga anche Emiliano con noi, che praticamente mi accompagna e siamo un po' diventati da questo punto di vista fratello maggiore e minore in questa avventura che io ho iniziato 5 anni fa a Santermetri. Se non sbaglio c'è anche Molare qui presente, credo di essere diventato l'allenatore più longevo di Santermetri, se non sbaglio, vero? E quindi mi fa piacere essere accompagnato da Vukai e da questa famiglia che infatti mi ha detto di non tirare, ma me la voglio tirare. Però è un piacere immenso, è un onore immenso, insomma, questo voglio dire. Con il DS Cipriani anche oggi è stata un'intensa giornata di lavoro sul mercato perché siamo a fine giugno, però tante trattative. Allora, Santermetri, quali sono le priorità per questo mercato? Ma, come hai detto bene, sono giornate particolarmente intense, un po' anche per il mio modo di intendere questo mestiere, tra virgolette. Non esiste un modo diverso per me di affrontare un impegno e quindi io ci metto tutta la mia passione, tutta la mia partecipazione e anche cerco ovviamente di valutare quelle che possono essere le soluzioni migliori per rendere questa squadra ancora più forte. Siamo al lavoro, come diceva il mister, le nostre idee sono molto chiare, quindi è per certi versi anche più facile individuare quei profili che noi riteniamo possano garantirci un salto di qualità in termini tecnici, in termini di valore assoluto per questa categoria, all'interno di un gruppo che è stato in gran parte confermato. Dobbiamo inserire un paio di giocatori che ci garantiscono, sempre con il giusto peso delle parole, un valore superiore dal punto di vista tecnico. Hai detto due giocatori, uno è un centrocampista in luogo di Ferrani che si è accasato al Pietracuta, l'altro è un difensore centrale, forse tre giocatori, anche un attaccante. No, adesso non voglio dire quanti, sicuramente non sono tante le operazioni che dobbiamo fare, in ogni caso siamo molto aperti e disponibili a vagliare quelle che sono anche le opportunità che il mercato offre. Certamente la partenza di Michele verrà rimpiazzata con un giocatore di uguale valore, spero anche superiore, certamente dobbiamo ritoccare i vari reparti, perché sono usciti dei calciatori che hanno fatto anche la storia di questa società, penso Castiglioni e Zavattini, a cui va un saluto e un grande ringraziamento per quello che è stato il loro percorso qui. Dobbiamo intervenire ma dobbiamo farlo con lucidità perché se vogliamo rendere questa squadra ancora più forte dobbiamo cercare dei giocatori che siano decisamente forti. Poi c'è il portiere, il primo portiere e anche la riserva da acquistare perché ci risulta che sia Romani che Delai sono stati ceduti, insomma non faranno più parte dell'organico. Per quanto riguarda Delai sì, è una decisione che il ragazzo ci ha comunicato nei tempi corretti, quindi anche a Matteo auguriamo le migliori fortune dal punto di vista professionale e non. Per quanto riguarda Romani è un discorso un pochettino più delicato, siamo al lavoro per cercare una soluzione da questo punto di vista, ci sono dei nomi che stiamo tenendo in considerazione, stiamo trattando soprattutto con uno, i dialoghi sono un pochettino più avanti, quindi spero al più presto di poter comunicare in maniera ufficiale, insomma di aver trovato una soluzione anche per quanto riguarda il portiere come per gli altri ruoli del resto. Non sappiamo ancora i gironi, la composizione, però possiamo guardare un po' alle rivali vicine, Pietracuta e Gambettola tra le favorite? Sicuramente perché il Gambettola si sta imponendo l'attenzione di tutti come una realtà solida con una forza economica importante, sta facendo investimenti, sta trattando calciatori di spessore, lo stesso Pietracuta ogni anno va a ritoccare una struttura già forte, inserendo calciatori con molta razionalità e quindi sarà anche un campionato forse diverso nel numero dei partecipanti? Probabilmente sì, quindi mi aspetto un campionato che sia più complesso rispetto a quello dell'anno precedente e anche per questo che posso dire che il San Termeto non lascerà nulla al caso perché dobbiamo essere pronti, dobbiamo essere strutturati, dobbiamo essere completi per essere competitivi e per giocarsela con tutti guardandogli negli occhi. Quinta stagione al San Termeto, ormai sei una bandiera, quali sono gli obiettivi per il prossimo campionato oltre a tornare a giocare finalmente dopo due anni? Sì, innanzitutto sicuramente tornare a giocare e poi quantomeno ripartire da dove ci eravamo lasciati sperando di trovare subito la marcia giusta. Mister Pazzini ci sente, parliamo un po' del tuo allenatore, che cosa apprezzi in particolar modo di lui? Innanzitutto che mi fa giocare. Come diceva lui, ormai ci conosciamo da cinque anni, ci sentiamo spesso anche extra calcio, quindi lui mi vuole bene, io li voglio bene, sono contento che siamo ancora insieme. Dove deve migliorare Emiliano Bucai nella prossima e nelle prossime stagioni? Sicuramente migliorare i risultati dell'anno precedente tutti gli anni, quindi già se riusciamo quest'anno a fare meglio di quello che avevamo fatto quel poco di tempo l'anno scorso, è già un buon risultato sicuramente. Quindi più obiettivi collettivi, personali, no? Nel senso qualche miglioramento dal punto di vista tecnico, tattico, fisico? Sicuramente, no, no, sotto tutti i punti di vista, adesso non sta a me a dire, te lo può dire lui, dove devo migliorare di più. Sicuramente io voglio fare il massimo e lavorare, allenarmi con i miei compagni per raggiungere il massimo. Quale posizione preferisci centralmente? Te lo volevo sempre chiedere, trequartista, più vicino alla porta, arretrato davanti alla difesa, a metà campo, in mediana, qual è un po' la tua posizione preferita? Come ha visto il mister, ma anche con tutti gli allenatori che ho avuto, non ho mai avuto ben un ruolo definito, preciso. Sicuramente sono un centrocampista che può fare tutti i ruoli del centrocampo. Se ti devo dire un ruolo proprio è, mi vedo come mezzala, però mi trovo bene anche davanti, dietro una punta, piuttosto che davanti alla difesa. Mi piace svariare sicuramente, quindi van bene tutti i ruoli. Grazie.